Buongiorno, buon pomeriggio, in questo video vado a parlare della vita di Goethe e a raccontare un po' la trama dei dolori del giovane Werther, l'opera di maggior successo. Goethe sicuramente è ricordato appunto per questo romanzo, in età più matura poi scriverà il Faust, e i dolori del giovane Werther diventano davvero un romanzo generazionale, molto importante, lo andremo a vedere bene, perché mette a confronto e in contrasto la vita dei giovani e il mondo degli adulti. Goethe nasce nel 1749 da una ricca famiglia borghese a Francoforte, grazie soprattutto al padre riceve un'accurata istruzione, il padre è un uomo molto colto, quindi ci tiene che anche il figlio lo sia e lo segua nella carriera di giurista e consigliere imperiale, quindi inizialmente studia nei materi umanistiche per poi frequentare gli studi giuridici che vengono frequentati da Goethe con poca convinzione perché è poco interessato a questi studi, preferisce dedicare le sue energie alla letteratura e alla scrittura. Durante la sua formazione per un periodo frequente ed è influenzato anche dal movimento dello Sturmundrang, quindi questo grande movimento tedesco importante nella letteratura che cerca di dare importanza, di esaltare i valori della nazione. Negli stessi anni scrive e pubblica i dolori del giovane Werther che avranno una grandissima diffusione, un successo in tutta Europa, quindi questa notorietà in realtà lo aiuta a inserirsi bene all'interno della società, tanto che al termine dei suoi studi 1775 si trasferisce a Weimar che era la sede dell'attività politica, amministrativa, culturale, quindi un centro molto importante e lavora e vive lì, ma in qualche modo è inappagato da questa vita, quindi per un paio di anni, 1786-88, fa il Grand Tour, quindi questo grande viaggio di formazione, la scoperta delle meraviglie in Italia e alla fine scriverà anche un'opera, appunto, Viaggio in Italia. Rientrato da questo viaggio torna a vivere a Weimar che rimane quindi sempre una città attiva da un punto di vista culturale e uno dei principali centri comunque culturali appunto della Germania e rimane appunto lì, è sempre attivo da un punto di vista lavorativo ma anche continua in realtà la sua carriera di scrittore e terminerà alcune opere che aveva iniziato a scrivere in età più giovane, quindi finirà il Faust e scriverà anche Affinità elettive, altro libro anticonformista che andrà a generare scandalo nel momento in cui verrà pubblicato e muore sempre a Weimar nel 1832. La vita super in sintesi ma ci serve importante per capire anche da dove nasce questo romanzo che ha avuto davvero un grandissimo successo, il primo grande romanzo tedesco ad avere successo in tutta Europa e può essere considerato un manifesto della sensibilità proto-romantica perché Goethe è il primo che riesce a scrivere le emozioni provate da molti giovani che vivono questo grande malessere, questo senso di frustrazione, inappagamento che è un sentimento proprio e tipico del romanticismo, l'abbiamo già visto anche nel video dedicato e ovviamente avendo così tanto successo avrà anche delle critiche, dei commenti negativi che ruotano intorno alla figura di Werther che è il protagonista. Alla fine del romanzo questo giovane andrà a suicidarsi e tantissimi giovani lettori si immedesimano nella storia del protagonista e vivendo lo stesso malessere a un certo punto anche loro decideranno di togliersi la vita ma inizia a essere particolarmente diffusa questa cosa tanto che in alcuni stati viene vietata la pubblicazione del romanzo. Da dove prende spunto Goethe per scrivere questa storia? Ovviamente è narrata, è inventata però a un certo punto inizia a lavorare per la Corte Imperiale di Giustizia dove incontra una coppia di giovani, questo giovane è Kessner fidanzato con la giovane Charlotte e all'apparenza meno di Goethe sembra una bellissima coppia borghese, felice e unita. Frequente i due, principalmente Goethe frequenta la ragazza, questa giovane donna e in qualche modo si affeziona, è quasi ossessionato da questa giovane tanto che a un certo punto decide di abbandonare la cittadina di Wetzlar dove si trovava per liberarsi da questa ossessione, quindi questo è un punto. Il secondo punto è che a distanza di tempo viene a scoprire che un altro giovane con cui lavorava a corte, un certo Jerusalem, si suicida per amore perché è innamorato di una donna sposata ma questa in realtà non ricambia la sua passione questa notizia in realtà lo colpisce molto e unendo le due storie nel giro di pochissimo tempo di poche settimane stende velocemente questo romanzo che ha quasi un effetto catartico su di lui di liberarsi dal ricordo che lo ossessionava per la donna che aveva conosciuto e la storia di questo Jerusalem che l'aveva colpito. Quindi in qualche modo c'è una parte, senza esagerare, di esperienze personali comunque di Goethe. Il tema centrale è sì, questa storia d'amore che appunto si andrà a creare si andrà a questo legame che si va a creare fra Werther e tale Lotte appunto il nome stesso poi deriva da Charlotte ma è proprio il tema centrale la sofferenza della condizione giovanile che fa fatica a stare in questa società dove vigono ancora i valori delle generazioni precedenti che non riescono a tenere il passo. In Europa ormai c'è stata l'illuminismo, arriverà l'evoluzione francese quindi c'è in qualche modo un sentimento di cambiamento avvertito principalmente dai giovani e meno dagli adulti, ovviamente dalle generazioni più vecchie. Il romanzo è un romanzo epistolare in cui vengono raccolte le lettere che il protagonista scrive a questo amico immaginario tale Willem e alla fine c'è un narratore esterno invece che va a scrivere gli ultimi momenti della vita di Werther. Il romanzo è diviso in due libri un primo libro che è quello un po' dell'illusione e il secondo è quello della tragedia. Il primo quindi dell'illusione è proprio questo giovane ragazzo è inquieto, ardente, appassionale, amante dell'arte e della letteratura che in realtà si trasferisce in questo paesino dove conosce Lotte promessa sposa di Albert e dove vive in questa natura bellissima, idilliaca e nasce questo amore fra i due, in realtà anche Lotte si innamora di Werther ma comunque è promessa sposa a un altro uomo. Nel secondo libro in realtà c'è la vera e propria tragedia che poi porterà alla morte del protagonista. Cosa succede in realtà? Werther a un certo punto inizia a lavorare come segretario di un ambasciatore ma è un lavoro mortificante perché non è all'altezza insomma delle sue capacità e c'è davvero la difficoltà da parte di Werther di inserirsi all'interno della società nobile lui che è di estrazione borghese e la natura perde questo suo senso di meraviglia, questo senso idilliaco e lui inizia a concentrarsi sull'amore che prova per Lotte ma ne diventa quasi ossessionato tanto che a un certo punto la bacia ma la ragazza in realtà lo respinge perché appunto è promessa sposa di Albert e quindi qua c'è la decisione finale di uccidersi e Werther si ucciderà con le pistole di Albert quindi sarà la stessa lotta in realtà a darle al servo che le porterà poi a Werther la morte avviene in maniera assurda, in maniera goffa in realtà un po' Goethe voleva prendere in giro questo giovane ragazzo che così come è sempre stato in difficoltà nella vita perché in qualche modo Werther è un eroe mancato perché non riesce anche quando ha l'occasione a battersi realmente per i suoi ideali anche quando si innamora di Lotte in realtà non riesce a conquistarla, a portare avanti questa sua scelta si ritira sempre e così anche la morte sarà davvero goffa e meschina perché si spara ma agonizza, in realtà viene trovato agonizzante viene bendato, viene in qualche modo soccorso ma ormai non c'è più nulla da fare ma è proprio... Werther racchiude davvero tutte le caratteristiche di questo eroe romantico che ha questi sbalzi un po' di umore, della depressione e l'euforia è instabile e ha difficoltà in realtà a inserirsi all'interno della società in cui vive appunto questa idea che lui sia... alla fine Werther non è che si suicida perché è respinto da Lotte perché in realtà anche se l'amore fosse andato a buon fine lui non si sarebbe mai probabilmente amalgamato nel contesto sociale perché era quello che combatteva e Werther in realtà idealizza Lotte perché è esattamente il suo opposto è una giovane donna ben radicata all'interno della società sa benissimo cosa deve fare, rimane orfana quando è piccola e quindi si prende cura di sé, si prende cura dei suoi fratelli minori lo fa con grazia, con amore, con dedizione ed è assolutamente ferma e statica mentre Werther è assolutamente inquieto, in costante desiderio non riesce mai a essere in pace con la situazione in cui si trova con se stesso in realtà quindi questo un po' è davvero il personaggio ed è forse il motivo per cui in realtà ha così grande successo perché si sta diffondendo in Europa la corrente del romanticismo questo malessere, queste incapacità di questi giovani molto sensibili di avere una loro vita, di avere una loro affermazione in vita Werther riuscirà ad affermarsi soltanto nel momento in cui deciderà di farla finita davanti davvero alla morte è proprio qui che riuscirà in maniera tragica comunque a trionfare soltanto nel momento in cui lascerà la vita posto luogo in cui non è mai stato in grado di inserirsi e trovarsi a proprio agio è davvero un video un po' riassuntivo però mette in luce le caratteristiche principali sia di Goethe sia del romanzo dei dolori del giovane Werther quindi spero vi sia stato utile e buono studio